Un quartiere che si sveglia con la maro in bocca ed ancor più con la paura di una riaccesa guerra criminale. Il quartiere Iepigio di Bari dove ieri sera a un quarantenne Francesco Barbieri è stato ucciso in un agguato dopo essere stato inseguito da sicari in sella a un motorino e colpito mentre era la guida di un'auto dinanzi al Palaflorio per poi finire la propria corsa, ormai senza vita, contro il muro di una scuola. Almeno cinque bossoli trovati sull'asfalto, quattro colpi, sono andati a segno. I sicari hanno affiancato all'auto, i barbieri hanno sparato, infrangendo il finestrino del lato del guidatore. Tre proiettili hanno ferito il quarantenne a braccio e spalla, uno mortale alla testa. Disposto l'incarico per l'autopsia nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari è affidato al medico, legale Nunzio Di Nuno, per stabilire l'esatta traiettoria dei proiettili e per ricostruire la dinamica dell'agguato. Secondo quanto ricostruito fino ad ora dagli uomini della squadra mobile di Bari coordinati dal PM della DDA Ettore Cardinali, l'uomo aveva piccoli precedenti per spaccio ma non risulta affiliato a un clan. Risideva con la famiglia, moglie e quattro figli, nel quartiere Libertà. Ieri sera stava raggiungendo la famiglia ad una festa quando è stato freddato. Gli inquirenti ritengono che il delitto sia maturato in ambienti legati alla criminalità organizzata, probabilmente al controllo delle piazze di spaccio della droga.